Musica Ben trovati cari amici, nuovo appuntamento con Confagricoltura News è tornato a trovarci a Telemantova Roberto Biondo responsabile dell'area fiscale di Confagricoltura Buonasera Roberto Buonasera Andrea Allora parliamo ancora una volta di fatturazione elettronica che sappiamo essere entrata in vigore da qualche mese ci sono ancora un po' di problemi, diciamo criticità il focus di questa sera è legato soprattutto alla ritenuta da conto cerchiamo di spiegare perché e come è legato ovviamente alla fatturazione elettronica Certo, allora ritenuta da conto sappiamo che viene applicata per i professionisti che emettono fatture naturalmente quando avevamo gli associati che consegnavano la fattura cartacea ai nostri o di zona o della sede avevamo sotto controllo naturalmente la ritenuta da conto da versare entro i 16 mesi successivi al pagamento della fattura adesso con la fatturazione elettronica abbiamo il rischio di avere un elenco di fatture e di non individuare quali sono quelle di professionisti quindi l'invito ai nostri associati è quello di rendersi partecipi nel momento in cui hanno una prestazione da parte di un professionista veterinario oppure il notaio, l'avvocato o altro professionista di comunicarcelo preventivamente in modo tale da riuscire a svolgere l'adempimento nei tempi previsti evitando delle sanzioni questo è un primo aspetto con la fatturazione elettronica un'altra criticità che abbiamo notato in questo primo avvio è quello relativo alle fatture in reverse charge si tratta praticamente di fatture emesse in particolari settori, in particolare l'edilizia dove l'adempimento del versamento dell'IVA è a carico in realtà del committente di conseguenza anche qui i tempi sono molto stretti e abbiamo necessità anche in questo caso di avere una informazione da parte dei nostri associati in tempi brevi quindi quando c'è una fattura emessa praticamente di solito dall'idraulico o da altre imprese edili di comunicarcelo per tempo in modo tale da poter svolgere l'adempimento del versamento dell'IVA nei tempi corretti ecco insomma quindi quello che emerge è che ci deve essere maggiore interazione forse tra le parti ovviamente e con gli uffici di confaricoltura in modo da far filare tutto liscio esattamente va bene abbiamo cercato anche noi nel nostro tempo a disposizione di cercare di fare chiarezza su questo argomento un po' tecnico ma con cui insomma le persone devono fare i conti da gennaio e poi nei mesi successivi e per il futuro ringraziamo Roberto Biondo responsabile dell'area fiscale e di confaricoltura a Manto ma noi invece agli amici a casa diamo appuntamento come di consueto a tra sette giorni arrivederci grazie a tutti grazie a tutti